Ups a tutti ragazzi e ragazze, come state? Oggi sono qui solo per voi, per il nostro trigger numero 8, 8, 8, 8. Quindi, se volete scoprire che cos'è, indossate un paio di cuffie auricolari e stendetevi sul vostro letto, va bene? Chiudete gli occhi e cominciamo con il trigger numero 8, del giorno 8. E oggi per voi ho scelto un trigger che mi piace tantissimo, il cespuglietto, quindi adesso cominciamo subito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Che suono fantastico, veramente. Grazie a tutti. 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 ora tocca a voi iscrivetevi al canale se siete nuovi per entrare a far parte della OOPS community e se siete dei maschietti diventare i miei OPSini mentre se siete delle femminucce diventare le mie OPSine poi mi raccomando lasciate un bel mi piace se questo video vi è piaciuto e commentate qua sotto tutto quello che vi passo per la testa il video di oggi purtroppo finisce qui ma se voi volete restare ancora insieme a me io vi lascio di qua il video di ieri di qua una mia playlist e qua da qualche parte il pulsante per andare sul mio canale vedere qualunque video che vogliate guardate tutti quelli che volete noi ci vediamo domani quindi buonanotte buonanotte un bacio grazie a tutti grazie a tutti